Guardando invece all'Europa ci sono casi, case history, studi o casi di successo che emulano o comunque si avvicinano a quanto sta succedendo oltreoceano riguardo alla mobilitazione che sappiamo, per esempio portata avanti da Obama nel 2012, ma senza mitizzare l'amministrazione Obama, insomma quel tipo di campagna, quel tipo di studi, quel tipo di profondità per mobilitare gli elettori. Ecco è proprio questo tipo di stimolo che ci ha portato a fare un salto nello studio della campagna elettorale europea, cioè a monitorare per la prima volta anche i profili dei partiti europei e non soltanto di quelli italiani, proprio per capire anche se ci fosse da questo punto di vista una differenza per esempio nell'apertura a nuove forme di comunicazione elettorale da parte degli organismi sovranazionali, quindi dei partiti sovranazionali. Con questo intendendo Partito Socialista Europeo, Partito Popolare Europeo, ALDE e tutti gli altri che magari conoscete bene. Ecco, e qui emerge un altro gap significativo, cioè noi abbiamo immaginato nel monitoraggio, abbiamo immaginato che forse per la prima volta quest'anno a livello sovranazionale ci fosse, ci potesse essere una maggiore presenza dei partiti europei, vista anche la loro importanza, come sappiamo viene indicato da molti di loro il candidato alla presidenza della Commissione, quindi c'è una visibilità maggiore anche dei partiti, dei gruppi parlamentari europei in questa campagna. E invece questi profili che pure sono stati attivati da quasi tutti i partiti, ma neanche da tutti i partiti europei, c'è in particolare almeno un paio di partiti che non hanno puntato affatto su questi media, bene, dicevo, allora accade questo, accade che questi profili vivacchino, li si vede stanchi, li si vede ancora una volta più reattivi a un modello di tipo Votantonio Votantonio, stile bacheca, stile megafono e con pochissima interazione. Forse erano le aspettative però da questo punto di vista che erano sbagliate, perché c'è un'osservazione generale da fare, che in fondo siamo di fronte ad una campagna elettorale europea, ma la campagna elettorale si gioca all'interno di un'arena nazionale, quindi forse non era tanto corretto immaginarsi di trovare una grande attività su quei profili e infatti non l'abbiamo trovata.